Giulia Scarlett Elizabeth Louis-Dreyfus è un'attrice, comica e doppiatrice statunitense È nota principalmente per aver recitato in serie televisive come Seinfeld, la complicata vita di Christine per il ruolo di Salina Meyer nella pluripremiata serie televisiva VIP, vicepresidente incompetente. Nel ruolo della vicepresidente Salina Meyer, l'attrice ha vinto 6 Emmy come migliore attrice protagonista in una serie comica dal 2012 al 2017, stabilendo un record come prima attrice a vincere il premio 6 volte consecutive Nasce a New York il 13 gennaio 1961 da William Louis-Dreyfus, un avvocato francese di origine ebraica, uno degli uomini più ricchi del mondo secondo la rivista Forbes, e da Judith Bowles, una scrittrice statunitense. I genitori si separarono un anno dopo la sua nascita. Era anche cugina di Robert Louis-Dreyfus, manager dell'Adidas e proprietario dell'Olympique de Marseille tra il 1996 e il 2000. La sorellastra Lauren Bowles è anch'essa attrice ed è apparsa in numerose serie TV. Giulia Louis-Dreyfus passò l'infanzia in numerosi stati, seguendo le numerose attività lavorative del padre e il progetto umanitario OOP. Diplomata alla Olton Arms School a Bethesda, Maryland, nel 1979 e laureata alla Northwestern University a Evanston, Illinois. Studia recitazione. Prima di approdare al Saturday Night Live. Il 28 settembre 2017 annunciò sul suo account Twitter di avere contratto un tumore al seno, diagnosticatole il giorno dopo che vinse il suo sesto Emmy come migliorattrice protagonista nella serie TV VIP, vicepresidente incompetente. Nell'ottobre 2018, mentre era ospite al Jimmy Kimmel Live, annuncia di essere totalmente guarita dal cancro. Giulia Louis-Dreyfus è stata una cast member del Saturday Night Live dal 1982 al 1985 ed è una delle più giovani cast member nella storia dello show, aveva appena 21 anni. Mentre era all'SNL ha conosciuto lo sceneggiatore Larry David, creatore insieme a Jerry Seinfeld della serie Seinfeld nella quale ha interpretato per nove stagioni il ruolo di Ellen Benes. Dopo Seinfeld ha deciso di iniziare un'altra sitcom Watching Daily ma che ebbe poco successo e fu cancellata dopo la prima stagione composta da 17 episodi. Nel 2006 dopo aver partecipato come guest star in varie serie TV, inizia una nuova sitcom sulla CBS La complicata vita di Christine. La serie ottiene buoni ascolti e riesce a vincere la Emmy per miglior attrice protagonista in una serie comedy. Ha avuto un ruolo ricorrente nella serie Arrested Development. Ti presento i miei ed ha partecipato a tre episodi della serie 1 Simpson dando la voce al personaggio Gloria Jailberg. Il 13 maggio 2006 è ritornata come presentatrice del Saturday Night Live. L'attrice, che ha ricevuto una stella nella Hollywood Hall of Fame il 4 maggio 2010, nel 2009 è apparsa insieme al cast di Seinfeld nella serie Terbiore Enthusiasm. Nel 2010 si è unita al cast della webserie Web Therapy. Sempre nel 2010 ha partecipato al quattro episodi della quinta stagione di Trenta Rock. Dal 2012 al 2019 è stata protagonista della serie televisiva VIP, vicepresidente incompetente. È sposata dal 1987 con l'attore e comico Bredoll, dal quale ha avuto due figli, Henry e Charles. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Giulia Luis Dreyfus è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane.